Una scoperta davvero straziante è quella fatta da un passante venerdì 5 luglio sotto il cavalcavia San Lorenzo, a Trento. Donia Sali, giovane ventisettenne residente in zona, è stata trovata senza vita, ma il suo decesso sembrerebbe essere avvenuto diversi giorni prima. Molti aspetti dell'accaduto rimangono ancora da chiarire, come la causa della sua morte e l'eventuale coinvolgimento di terze persone. Solo gli accertamenti forniranno risposte concrete sul caso. Secondo le prime informazioni fornite dai media locali, il dramma si è consumato il 5 luglio vicino alla ferrovia, nei pressi del cavalcavia San Lorenzo, a Trento. Un passante ha notato il corpo esanime della giovane in un piccolo anfratto nella boscaglia. Immediatamente è partita una chiamata disperata alle forze dell'ordine e ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, per la ragazza non c'era più nulla da fare, il decesso risaliva circa due giorni prima del ritrovamento. Gli agenti hanno posto sotto sequestro l'intera zona per permettere alla scientifica di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Nel frattempo, la salma è stata trasferita all'obitorio locale per un'autopsia. L'ipotesi più plausibile al momento è quella di un decesso causato da un'overdose, ma solo ulteriori indagini potranno fornire risposte definitive su questa tragica vicenda.